Mirta Merlino dà nuove anticipazioni sul Grande Fratello, ci sarà un idraulico L'idraulico Tommaso Franchi nel cast del reality show, l'annuncio in diretta a Pomeriggio 5 Come ormai da diversi giorni a questa parte Mirta Merlino dedica il finale del suo rotocalco pomeridiano in onda su Canale 5 alla prossima edizione edizione del Grande Fratello E in questa occasione ha rivelato che nel cast del reality ci sarà anche un giovane idraulico di Siena, si chiama Tommaso Franchi ed è un idraulico La conduttrice non ha poi fatto mistero di credere che sia geniale aver ingaggiato un idraulico perché può sempre tornare utile Un'idea geniale. Tutti noi vorremmo un idraulico in casa. Vorremmo viverci con un idraulico Tommaso Franchi si presenta al grande pubblico prima di fare il suo ingresso nella casa Successivamente Mirta Merlino ha lanciato in anteprima la clip di presentazione dell'idraulico del Grande Fratello, il quale ovviamente ha parlato un po' di sé Io sono Tommaso, ho 24 anni, abito a Siena e nella vita faccio l'idraulico In questa occasione il nuovo concorrente del reality show dell'Ammiraglia Mediaset ha tenuto a dire di ritenersi un ragazzo un po' all'antica con i valori di una volta Io mi reputo un ragazzo un po' all'antica con i valori di una volta.Non sono simili ai miei coetanei Il giovane ha poi tenuto a dire di non essere particolarmente attaccato al cellulare per guardare i social, anzi tutto il contrario, non sono una persona che guarda molto il telefono o che sta sui social e va a ballare Detto questo ha poi colto la palla al balzo per rivelare anche il motivo per cui ha deciso di partecipare a reality condotto da Alfonso Signorini Per me il grande fratello rappresenta un'evasione dalla vita di tutti i giorni, un'avventura Mirta Merlino svela che nel cast del reality ci sarà anche Ilaria Clemente La conduttrice di Pomeriggio 5, la quale ieri ha svelato di aver saputo direttamente da Alfonso Signorini che Jessica Morlacchi spariglierà le carte nella casa del grande fratello, ha poi confessato che nel cast ci sarà anche Ilaria Clemente Quest'ultima nella clip di presentazione ha parlato ovviamente un po' di sé Sono Ilaria, vengo da Roma e ho 30 anni. Nella vita mi occupo di sicurezza informatica. Io rido tanto e faccio confusione, faccio ridere e mi piace ridere Quest'ultima ha poi voluto dare un consiglio a tutte le ragazze sintonizzate su Canale 5, vorrei dire a tutte le ragazze in fissa con il fisico di pensare alla persona e al cervello perché è molto più importante Finita anche questa clip la presentatrice ha rivelato che sembrano davvero simpatici. Lo saranno anche nella casa